Dario Salvetti. Sì ci sono mi sentite? Sì Dario eh purtroppo ti devo chiedere di essere un po' sintetico. Sì ma lo sarò lo sarò anche perché oggi ti ringrazio dell'invito io ero semplicemente ad ascoltare portare un saluto eh come come collettivo di fabbrica GKN chiaramente noi siamo una vertenza sindacale in questo momento non non discutiamo non ci stiamo ponendo parte delle problematiche che vi siete posti in questa discussione pur rispettandole rispetto alle elezioni alla forma partito ed altro eh però ci sembrava giusto accettare l'invito di portare un saluto perché comunque credo che siamo tutti eh con vari strumenti impegnati a cambiare rapporti di forza a livello nazionale a livello internazionale. Ehm noi crediamo ehm che in questo momento eh si stia in realtà prendo un processo di risposta alla crisi pandemica di risposta alla crisi bellica noi abbiamo voluto definirlo con uno slogan fuori dall'emergenza e dentro l'urgenza cioè fuori da uno stato di emergenza continuo che ci sta imponendo il dibattito all'interno del sistema passiamo da una continua pressione emotiva eh a schiacciare il dibattito attorno a delle polarizzazioni ehm e la guerra è ovviamente il portato più alto di tutto questo e e invece assistiamo a un tentativo di derubricare a un tempo indefinito le urgenze, l'urgenza salariale, l'urgenza di uscita dal precariato, dalla povertà, l'urgenza ambientale, l'urgenza della parità di genere che vengono appunto rimandate ogni volta usando come scusa eh le emergenze che altro non sono che in realtà la crisi strutturale di questo di questo sistema. La nostra ehm esperienza ehm a contatto con amministratori delegati ehm direzioni multinazionali, loro rappresentanti legali eh mise, parte del governo ehm noi mh quello che abbiamo riscontrato e ci sembra di riscontrare è che non esiste oggi ehm un'istituzione, uno spazio politico, una classe dirigente a cui rivolgersi in termini eh rivendicativi. Le attuali istituzioni eh nate all'ombra dei meccanismi di questa società e dove il personale politico che attualmente occupa queste istituzioni è stato selezionato non in un giorno ma in decenni evidentemente di questa eh politica eh è assolutamente incapace di concepire un'alternativa e anche laddove noi riuscissimo ad imporgliela attraverso dei rapporti di forza è incapace di praticarla. Eh noi abbiamo avanzato ad esempio la proposta del polo pubblico della mobilità sostenibile per uscire dalla crisi dell'automotive. È una proposta che non solo non viene concepita e percepita dall'attuale eh classe dirigente ma probabilmente non saprebbero nemmeno dove cominciare a portarla avanti. Eh c'è da ricostruire un'accumulazione di forze di classe dirigente dal basso e questa classe dirigente può accumularsi soltanto nel conflitto, può accumularsi soltanto nella convergenza e nell'intersezionalità di lotte che si pongano ovviamente obiettivi a lungo termine ma che allo stesso tempo eh si misurino con la possibilità di vincere qui e ora, di cambiare rapporti di forza qui e ora e quindi ad esempio se penso a alla discussione che si sta eh aprendo non troppo lontano da Firenze a Pisa col Tano su la costruzione di una base militare che che eh deturperebbe l'ambiente e che contemporaneamente verrebbe fatta con i soldi del PNRR noi per esempio lì credo che dovremo applicare di nuovo il metodo che è stato applicato con GKN cioè quello di insorgere per convergere e convergere per insorgere quindi di creare reti di lotte differenti che sappiano eh in realtà imporre già un'altra realtà e nel farlo lo facciano con una propria progettualità quindi sviluppando un'alternativa complessiva ehm quello che abbiamo visto nelle giornate del 25 e 26 marzo cioè una saldatura tra questione ambientale e questione sociale con i Fridays for Future firmare un appello congiunto col collettivo di fabbrica GKN è per noi un punto di non ritorno ehm e il 26 marzo noi abbiamo assistito a Firenze a una manifestazione di trentamila persone ehm che era un misto di cose da una parte era un'espressione di pura volontà politica perché quelle trentamila persone ce le siamo andate a prendere fuori da ogni eh scadenza fuori da ogni emergenza fuori da ogni spinta emotiva ce le siamo andate a prendere con un insorgiamo tour di due mesi e contemporaneamente quelle persone sono state portate dalla volontà di tante realtà politiche sociali ambientali che sono messe in moto eh in maniera in disinteressata nel nel percepire che quello spiraglio quella piazza era importante andava aperto e però quella piazza non era solo pura volontà era anche il risultato di un processo oggettivo perché c'era una una presenza giovanile importante che è il risultato di un movimento giovanile studentesco che si sta risvegliando dopo i due anni pandemici che hanno colpito particolarmente il movimento studentesco e giovanile nella socialità negli spazi nella possibilità di organizzarsi quindi noi crediamo che in realtà qualcosa stia accadendo non soltanto dal punto di vista purtroppo del della crisi di sistema quindi della guerra della pandemia e perché no la prossima potrebbe essere la crisi idrica eh che galoppa rapidamente eh ma qualcosa stia accadendo anche nel nostro paese dal punto di vista di un di un risveglio naturalmente non abbiamo la certezza non concepiamo questo risveglio come qualcosa da attendere passivamente e per questo proveremo a continuare ad aprire spazi di di insorgenza di convergenza e a partire da quel 25 26 marzo a partire da questo da questo processo e crediamo che indipendentemente dalle prospettive politiche partitiche elettorali che noi oggi non non ci poniamo e probabilmente non ci porremo nemmeno domani ma che vi ponete voi però crediamo eh che questo processo apra eh risvegli tante coscienze in questa società e questo eh va nell'interesse crediamo di di tutti coloro eh che hanno dei progetti evidentemente da da portare avanti perché è in questo risveglio eh che ehm che che si può effettivamente mettere a verifica anche ipotesi politiche diverse senza questo processo le ipotesi politiche diverse rimangono un dibattito legittimo nobile ma sulla carta e purtroppo sulla carta è vero tutto è il contrario di di tutto e vi ringrazio per eh la possibilità di questo saluto grazie grazie Vario ci vorrebbero ci vorrebbe molto più tempo ma